Scontro diretto in chiave salvezza tra Nero Stellati e Ponte Vomano allo stadio Ezio Ricci di Pratola Pelligna con direzione di gara affidata al signor Paolo Di Carlo della sezione arbitrale di Pescara. Padroni di casa con pendenze in attacco spalleggiato dall'Argentino Sosa e una mediana composta da Iacobucci e Sisse Papis al centro, oltre che dai laterali Bruno e Puglielli. Gli ospiti si presentano invece con Pallitti e Manuel Di Sante, riferimenti avanzati supportati dalla tecnica e dall'esperienza di Francia. Buona partenza dei Terramani che dopo appena 45 secondi non sfruttano con Pallitti, un invitante palla gol. Poco dopo si rivedono gli ospiti e stavolta c'è Amo a dire di no a Manuel Di Sante. Al decimo si sblocca il risultato, il Ponte Vomano si fa spazio a sinistra e sul cross in mezzo è Maranella ad arrivare puntuale per l'1-0 di marca Terramana. I Nero Stellati faticano a trovare una certa continuità di manovra, il primo tentativo senza esiti è quello di Bruno su calcio piazzato. Superata la mezz'ora non produce effetti il sinistro di Sosa terminato a lato. Nero Stellati man mano più incisivi e pericolosi sugli sviluppi del corner di Puglielli. Prima è il Terramano di Francesco a salvare sulla linea e poi è Sissepapis a sfiorare il bersaglio grosso con palla deviata in corner. Al 44esimo Peligni vicini al pareggio. Pendenza trova lo spazio per servire Puglielli che però spedisce alto per il rammarico del pubblico di casa. Al 45esimo il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo per Sissepapis che si vede sventolare il rosso subito dopo un duro fallo del Terramano Samuele Di Sante senza alcun provvedimento disciplinare. Due pesi e due misure nell'insufficiente direzione di gara da parte del signor Paolo Di Carlo di Pescara che poi al rientro negli spogliatoi estrae il cartellino rosso diretto per il centrocampista Peligno Iacobucci. Nero Stellati ridotti in nove uomini. Nell'infuocato intervallo Bernardi inserisce Verrocchi per pendenza nei padroni di casa. Il primo cambio di mister Capitanio vede invece l'ingresso in campo di Gentile per Manuel Di Sante. Al 60esimo è il numero uno pratolano Amo a chiudere in corner sulla conclusione di Pallitti prima del secondo cambio Peligno che fa registrare la sostituzione di Bruno con Pelino. I Nero Stellati cercano di coprire il campo e agire di rimessa. Il tentativo di Giallonardo però manca della giusta precisione per arrivare a un pareggio sfiorato poi all'ottantunesimo da Del Gizzi su un'azione di contropiede iniziata proprio da Giallonardo. Il Ponte Vomano predilige la circolazione di palla in un finale di gara caratterizzato da diverse sostituzioni e dal raddoppio del Ponte Vomano. Arrivato all'ottantottesimo con il colpo di testa vincente di Pallitti che chiude i conti sullo 0-2. Per il Ponte Vomano un successo importantissimo dopo quattro turni di astinenza mentre i Nero Stellati recriminano per l'operato arbitrale. Queste le parole del direttore sportivo Terramano Aurelio Massacci e del direttore generale Peligno Salvatore Zavarella. Sì, sicuramente siamo partiti forti, volevamo fare punti qui perché era una partita importante e penso che la squadra abbia ricevuto questo. Siamo partiti bene, siamo mangiati un gol subito, poi abbiamo fatto gol e la stavamo dominando. Poi abbiamo avuto un piccolo calo, poi sono state le due espulsioni in pochi minuti del fine primo tempo dei ragazzi del Nero Stellati. Ci ha agevolato, non abbiamo rischiato, noi non abbiamo fatto benissimo. Il secondo tempo potevamo fare meglio, però la posta in paglio era alta, quindi per noi era importante portare a casa tre punti perché per la prima volta siamo più due dai play-out. Anzitutto complimenti ai nostri ragazzi che anche in nove hanno fatto un secondo tempo veramente d'applauso. Abbiamo dominato il secondo tempo nonostante due persone in meno. La partita devo dire che la decide assolutamente l'albitro. A mio avviso non ha albitrato in buona fede, un albitro che ha minacciato i nostri giocatori di aspettarli fuori dal campo. Un albitro che a parità di falli, per noi erano calterrini rossi, la squadra terzaria nemmeno veniva munita. Io credo che non si possa veramente andare avanti così, assolutamente. Un'articolità che sta facendo tanti, tanti, tanti sacrifici, ci siamo risollevati con le nostre forze. Arriva un albitro, un nascondo diretto che pregiudica un campionato. Io dico assolutamente scandaloso.